Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Stellaris Nello scorso episodio siamo riusciti a bloccare questo impero, andando a fondare noi per primi qua Adesso però abbiamo un problema di coesione, abbiamo bisogno di fondare altri pianeti Probabilmente questo già risolve abbastanza la situazione, magari questi due, per non avere i confini così frammentati Anche questo risolverebbe un po' la faccenda, probabilmente Idem questo perché sono due per lane, diciamo gratis, che gli stiamo dando C'è la flotta dei Marauder che stanno andando a picchiare questi, quindi noi siamo molto felici di tutto ciò E direi basta Toglia la cosa Posto in sci Andiamo un po' Questa io la farei finire e poi dopo potenziamo anche l'altro robot che abbiamo già costruito Che di per sé non mi interessa tanto potenziarlo perché Non ha Cioè non ha un vantaggio Anzi effettivamente non lo è Cioè lui che è già costruito, questo qua è tutta una cosa per farne di più E praticamente non ne vale la pena Perché Quelli in costruzione e questo è comodo Quelli in costruzione e questo ovviamente è comodo E quelli già costruiti e questo qua è scomodo Quindi in realtà conviene tranquillamente tenerti come sei in questo momento a te Via È un progetto che non ha senso fare Ok qua è finito Non penso che riusciremo ad arrivare qua prima di loro però Vediamo cosa c'è qua dentro Che non è male affatto Qua stiamo studiando questo robo Non sa cosa ne viene fuori 90% Stiamo cercando di risistemare lo scudo Allora excellent Wow Fantastico Research Qualcuno ha diventato opzionista Che è che ha diventato opzionista? Lui Research speed psionic Beh se servirà lo faremo Dovrei avere ancora un disoccupato Construction ship Allora Potremmo andare qua O di qua Avivò Qua ne mandiamo uno Allora Tu vedi qui Tu vedi qua Però vedi Beh cacchio Un posto che è una figata questo Adesso vale molto più la pena tutto quello che ho fatto Forse il posto più scarso di tutti è questo qui Qua chissà cosa c'è Allora Facciamo Che ricerchi special project Che comunque va bene Molto bene Quelli stiamo spostando Questi qua potrei potenziarli Probabilmente c'è qualcosa Di potenziabile Cioè di Che è stato potenziato Ok abbiamo questo Questi sono ancora quelli base Questo qui Lo abbiamo Si è Invenuto il nodo alla gola Non ho parlato più Fra un po' farei questo Fra un po' farei quello Perché adesso ne entrano praticamente due Quasi simultaneamente Arriviamo a 37 Dopo costruiamo quello lì Allora Intanto questo cos'è Dove siamo Prima di tutto Siamo all'interno del nostro impero O comunque quello che considero All'interno del mio impero Allora This will disappear The adex Seren Kingdom Displease Allora c'è un frammento Di quelli là Io non è che ci voglio litigare Per forza In realtà ho già fatto Quello che volevo Guarda devo spingere di qui Perché ovviamente Lo faranno loro Idem qua a nord Io credo che Sia meglio questo Iridiamo i minerali indietro E ci aumenta un po' l'influenza Vediamo Cioè vale molto di più l'influenza Di un po' di minerali Non so perché sia normal Ottimo Siamo a 4 Allora qua ne abbiamo Precursor Precursor Ancora due da fare Io voglio andare a prendere Questa nave qua Che è quella figa Giusto 100 Molto bene Sono molto contento Della mia scelta Che è quella aliena E la mandiamo qua A fare Research anomalies Ci metteremo un po' A arrivare lì Ma sei decisamente La più veloce Da ricercare le cose Sia per il tizio Che c'hai a bordo Che per altro Allora 100 però Un bel po' Ne abbiamo un tanto ora Tu stai già andando lì Non so se Attivare Questo qua Surve speed Anomaly Facciamo questo Voglio più anomalie possibile E poi Possiamo fare un altro Ottimo New research Vabbè farei questo Perché alla fine Qua A parte che non ci servono Poi da jobs Ne guadagniamo 22 Dalle stazioni 71 Quindi non è che sia Un incremento del 10% Di questo 85 Invece questo qua Ci serve per fare tutto Purtroppo non stanno Scendo fuori Le ricerche Che vorrei io Però Penso che siano potenziate Dal numero di stazioni Quindi in realtà Dovrei ricercare Più stazioni Allora Cos'è? Ah bene Cacchio qua Voglio espandermi però Uno Due Tra l'altro Ci sono dentro pure questi Vabbè quello lì Fa schifo Nove Ah Ho trovato un pianeta da 25 Era tipo qua Un tundra 25 Affascinante Ok Per quanto riguarda Gli dei antichi Quindi siamo a Uno fatto Boom Ho trovato qualcosa Research Io finirei la questione Degli dei antichi Così ce la togliamo Dalle scatole Plot now has Mi sa che è quello brutto Ma forse Il governatore è qui Peccato Perché vive di più Ma ha questa cosa Quindi in realtà Ci mette più tempo Per fare quello che gli altri Farebbero in una vita normale Però vive di più Quindi le fa comunque Insomma Un mix Un mix letale Ma non starei a cambiarlo Per adesso Vorrei più alloghese Questo si Ah vediamo un po' Ragazzi Abbiamo andato i nemici in casa Adesso questi qua Verranno completamente distrutti Allora Tutti i numerini gialli Vuol dire che loro Hanno fatto delle stazioni Vediamo quanto Quanto ci guadagnano Dal razziare Ottimo Quindi abbiamo due di queste Adesso provo a rendere Un po' di research Siamo messi maluccio Mettiamo questo qua Uno in costruzione Ok Research Ok Fantastico Questo qua ci ha dato Un bel po' di scienza Per cui sarebbe fare questo Ok Perché Aumenta le relazioni E l'influenza Non mi fa per niente schifo Perfetto Perfetto Melli Avanti No Aspetta C'è un construction Che non fa un tubo Ok Questo qua L'abbiamo fatto scendere Un pochino Siamo già a 100 Così Ottimo Quindi 44 Va bene Allora Adesso ci spagniamo Solo dove serve Per adesso Anche se qua Cacchio si Che vorrei tanto Espandermi Però lo facciamo dopo Iniziamo a costruire Dove abbiamo già Preso il possesso Dei pianeti qua Che ne vale decisamente La pena E invece Espandiamoci di qua E verso nord Allora Facciamo un ragionamento Poniamo che voglio arrivare qua Che tanto da qua in poi È tutto uguale Ma non penso Riuscirò a battere Loro Per arrivare qui Cioè Mi sembra abbastanza Utopistico Per arrivare qua Cosa mi serve 1 2 3 4 5 6 Attanto questo è più lungo 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 È più veloce A fare di qua Quindi ci espandiamo In due direzioni Sarà Sarà una bella gara Però qua Stiamo guadagnando Un botto di influenza Allora Ragioniamo un secondo Gravity Sensation Che si fa Questo qui cos'è Listings post Sense of rage Ship hyper lane Non mi interessa Non mi interessa Questo può essere utile Qua ci metti 40 mesi Qua ci metti 32 mesi Questo qua È proprio inutile Ma io farei questo Anche perché Ci sblocca altre cose Vorrei pompare Il più possibile La mia unity Però Allora 32 Devo fare questo Ancora Due volte Così poi posso fare Questo E questo Mi danno più unity Mi serve Più energia Non abbiamo ancora Trovato nessun altro No ci sono i marauder E gli artisti Basta Ci sono tre Faller Empire Ovviamente Questi qua che sono superior Perché hanno la flotta Overwhelming Ma non me ne frega Proprio niente Cioè nel caso Inizio a costruire corvette E tra l'altro Adesso Questi qua Verranno Completamente distrutti Da questa flotta qua Potremmo mandare Quando questi qua Hanno finito Una flotta qui Uh È entrato un drago Che figo È ostile Bisogna uccidere il drago Allora cerchiamo Cosa c'è qua dentro Vediamo se troviamo Qualcosa di interessante Però c'è un'anomalia Un progetto da fare Io farei Che tu ora mi fai Research anomalies In the system Poi Salti Vai qua a fare Research anomalies Research project Perfetto Perfetto Siamo avanti Contacto e report Dell'Aviathan Wow Vai qua non c'è ancora Allora Unusual Technics Dove? Buono Perché comunque Farà passare Il nostro questione Ci siamo espansi Interesting Dove siamo? Speriamo che diventi nostro A questo punto Resource scan complete Allora qua iniziamo a fare Mining station E poi dopo ci spostiamo qua Perfetto Via Qua siamo un po' scesi Ma è così Population 36 Questo è quasi finito All goal shrine Va bene Fascinating Mi sembra che l'ultimo sia qui Research project Ottimo Allora qua iniziano ad esserci delle scelte da fare Questo non mi interessa Questo non mi interessa Questo mi interessa Questo mi interessa di brutto Questo mi interessa di brutto Questo mi interessa Abibom Io andrei a fare Andrei a fare Questo secondo me è la cosa migliore C'è da più unity Possiamo potenziare la capitale Alla fine Alla fine quello dove devo davvero spingere io È ingegneria E adesso abbiamo tutto quello che ci può servire Quindi io andrei su Anche se questo mi piace Questo sempre per il fatto che poi Ci permette di fare cose superiori Tra i leader Comunque non penso che ci servano altri scienziati C'è sempre lui 57enne avievol Ma io a questo punto Lo andrei anche eliminare Cioè a meno che non mi muoia qualche altro scienziato nel frattempo Ma fino a 70 anni non hanno possibilità di morire Non mi sembra ce ne sia uno più vecchio Quindi a questo punto lo licenziamo E non è niente di più Come stanno le fazioni Federated Non ci penso proprio Questa è scesa di brutto Peccato perché è quella più felice Cos'è che è costruito? Communication Establess Curator Order Che bello Well met Dove siete? Questa stella qua è forse la peggiore dove espandersi Perché è 1, 2, 3, 4, 5 hyperlane Però arrivare qua sarebbe davvero bello Se non fino qui Almeno fino qua Io posso anche non espandermi Però forse in maniera contigua Cioè vado direttamente qui Lo faccio Però Non lo so Non lo so Non lo so Costa 1, 2, 3, 4, 5 hyperlane Costa mille Il risorcio speed Tell us about To defeat it Ok ci sono tutte le domande da fare Le guardiamo Me le guardo da solo Perché adesso non c'è voglia di tradurvi le cose Quello recruit è uno scienziato Goodbye What about Di là No potremmo fare questo però Costa mille Allora Prima cosa da vedere Questa Siamo ancora lontani Quindi il cibo Si vende Questo Si vende Poi si vende Il curatore Gli si dice Give me Perfetto Però non so dove siano Perché conosco questa cosa? Cioè va bene Ma perché conosco quelli da quella parte? Evidentemente c'è un collegamento di un buco nero Per forza Cioè non mi viene letteralmente in mente nient'altro Che ci possa connettere con loro Da che avremo il primo volo a trovo Invece se ne si può stare tranquillamente lì Non c'è bisogno di potenziare quell'altro Allora Design the alliance special event chain What is this? Ruler game trades Director general glug Che cosa? Ottimo! E questo invece? Autotrack the special project The director Museum Proprio parla Incanto We will get this specialist We will get the resources Log updated Noi possiamo fare tutto Abbiamo un sacco di scienziati Siamo la nazione della scienza Vediamo un po' qua come va Allora Gli ha distrutto questo Io vorrei tanto l'indebolisti davvero tanto Che succede? Bene Prospect analyzed Molto bene Questa sono 180 E adesso secondo me è da fare Perché qua comunque li guadagniamo un po' Anomaly research Ok abbiamo finito Quello degli old gold Penso tutto Cosa ci dice? Allora Surprise madafaka Monetize this But what we can learn about this Or we work forth out the vine Allora Shafted empire ethics through spiritualist Direi di no Shift ethics through spiritualist No 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 Knowledge power or secret knowledge is a secret power Ok io mi prenderei l'influenza Quella che comunque in questo momento ho nella vita reale Allora Energy gain Non mi interessa Io direi che Interrompiamo le ricerche E ci prendiamo un bel po' di influenze Limbo Allora Limbo Allora We do not download their natural pattern Io farei questa Probabilmente ci dà qualche vantaggio successivo C'è l'unica spiegazione che mi viene da darmi Ok così Qua fai così Qua ce ne sono due giusto Questa che è quella figa E tu che sei quella scarsa Tre virgolette Vai a farmi Questo special project qua Che non so cosa sia Ok Ok mi hai ricercato quelle robe Survey system E survey system Così siamo in grado di arrivare là 1, 2, 3 Non devo passare di qua Però devo passare di qui Fermo Facciamo survey system E survey system Ci metto di meno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E E' una bella differenza E' una bella differenza Dai ci salutiamo qua ragazzi Adesso parlo un po' con i curatori Mi leggo tutte le risposte che hanno da darmi Così poi vi faccio il bel riassuntone Ehm Questi chi sono? Sempre loro? Ok Guadagniamo un bel po' adesso Potremmo anche pensare di trasferire metà dell'income del trade Sulla Unity E penso che lo farò Questo non me ne frega niente Questo no Facciamo qui dai Sulla Unity Ricordatevi questo 33 All'inizio del prossimo episodio Vediamo quanto diventa E questo 18 Diventerà Con un meno 13 Quindi un più 5 Ci salutiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi GG a tutti Grazie a tutti